Si è tenuta ieri a Polla la conferenza stampa di presentazione del pellegrinaggio diocesano in Terra Santa, che si terrà dal 20 al 27 agosto. All'incontro moderato da Michele Ficetola hanno partecipato il Vescovo della Diocesi di Tegiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca, il Parroco della Chiesa Don Paolo Longo e gli organizzatori del Tour Operator. È stato presentato il programma degli otto giorni con partenza da Napoli. Il pellegrinaggio si chiamerà in cammino come i nostri padri sulle vie di Gesù di Nazareth. Per poter partecipare o chiedere maggiori informazioni è possibile rivolgersi a Don Paolo Longo, Parroco della Parrocchia di San Pietro e Benedetto a Polla, o all'Agenzia i Viaggi di Giorgia. Una nuova opportunità per la nostra diocesi, che già in passato è stata protagonista di importanti eventi che hanno riguardato la Chiesa. Un'opportunità non solo per la propria crescita spirituale, ma anche per un arricchimento culturale ed intellettivo.